Andrea Garosio, SC Capriolo, seconda vita della stagione, seconda Bergamo e oggi qui a Cenealchino vale anche il titolo regionale della montagna. Sì, sono molto contento di aver vinto oggi, dato che è il campionato regionale a Lombardo e diciamo meglio di cui se non poteva andare, anche perché sono riuscito a battere un ottimo Bianchini che ha vinto di recente una tappa all'Orobica e sono molto felice. La dedica a chi va? La dedica a tutti i miei familiari, l'allenatore romano e anche a mio nonno, dato che sono la prossima sul compleanno.